Due giornate espositive all'insegna della celebrazione per gli appassionati dell'universo felino. L'evento voluto dal World Cats Federation con sede a New York è stato organizzato a Roma dall'Associazione Felina Italiana. Erano presenti oltre 300 gatti di 40 razze differenti, provenienti da più parti del mondo, giudicati da un team di esperti di livello mondiale. Una manifestazione riuscitissima dove Gianni Di Sipio di Villa Donia dell'allevamento amatoriale Orobie Divas era presente con i suoi gatti di razza balinese, sia a mese a pelo semilungo. La bellissima Vilma la Diva, oltre a conseguire il titolo di campionessa europea, si è classificata a secondo posto del campionato mondiale come il secondo gatto balinese più bello del mondo dell'anno 2011. Vilma la Diva che è diventata nell'ultima esposizione, che era un'esposizione mondiale, è diventata campionessa europea e invece suo marito Fiero è diventato gran campione internazionale. Tre in casa ad oggi, ma c'è un prossimo arrivo. C'è un prossimo arrivo, esattamente un bellissimo vikingo rosso, direttamente dalla Norvegia, prossimamente andrò a prendere un altro bellissimo maschio, che è un Red Point, molto particolare e molto bello, almeno dalle foto. Perché ci si deve appassionare di questi animali? Perché sono immensamente belli, eleganti, soprattutto per chi ama il blu come me, sicuramente non possono fare a meno dei meravigliosi occhi blu che hanno.